Il cortile della Villa della Petraia. Architetto, Bernardo Buontalenti. Artisti, Cosimo Daddi, Baldassarre Franceschini detto il Volterrano. Committenza, Cristina Di Lorena, Don Lorenzo De Medici. Ubicazione, Villa Medicia della Petraia, piano terra. Attraverso un bel portale collocato sul lato a sud della villa e sormontato dallo stemma Medici Lorena, si entra nel cortile. Forse il luogo di maggior pregio artistico dell'intero complesso è perno della villa. Il cortile, ampio 26 per 20 metri e alto 15 metri e mezzo, viene realizzato durante le ristrutturazioni della villa del XVI secolo da Bernardo Buontalenti, per poi essere trasformato in un salone da ballo monumentale durante il periodo di residenza di Vittorio Emanuele II, re d'Italia. Fu infatti in occasione del fidanzamento di suo figlio Emanuele Conte di Mirafiori con Bianca di Larderelle che nel 1872 il cortile fu coperto con un lucernario alla sua sommità. La copertura tuttora esistente in vetro e ferro lascia filtrare una luce avvolgente e soffusa. Al centro di questa struttura è posto un lampadario in metallo dorato e cristallo color ametista. Nello stesso anno il cortile fu dotato di una pavimentazione in marmo, tuttora presente, che riproduce motivi geometrici policromi. Poiché la sua funzione divenne quella di salone da ballo, furono posizionati lungo tutto il perimetro delle pareti tavoli con fasi, divani e poltroni, ancora oggi presenti. Oltre alla luce, la copertura in vetro ed il pavimento, ciò che maggiormente colpisce quando si entra sono senza dubbio gli affreschi che coprono tutte e quattro le pareti del cortile. Gli affreschi possono essere suddivise tematicamente in due grandi cicli. Il primo ciclo, rappresentato dal pittore fiorentino Cosimo Daddi intorno al 1596 sul prospetto settentrionale e meridionale del cortile, presenta le storie di Goffredo di Buglione, cavaliere franco e comandante della prima crociata. Questo personaggio fu considerato come il più antico eroe della casata Lorena. Pertanto, la committenza di questo ciclo di affreschi è da attribuire direttamente alla granduchessa Cristina di Lorena, discendente del condottiero e moglie di Ferdinando I dei Medici. Le scene del primo ciclo, rappresentate all'altezza dello spettatore, sono ideate come una serie di finti quadri incorniciati, da una ricca decorazione a grottesca, che prosegue anche verso la sommità delle pareti e conferisce vivacità cromatica alla composizione. Mostrano quattro grandi episodi. Sulla parete di fronte opposta all'ingresso, partendo da sinistra, Goffredo è rappresentato durante la presa di Gerusalemme. Nel secondo sono rappresentate le gesta di Goffredo. Altre due grandi scene sullo stesso tema, la presa di Gerusalemme da parte di Goffredo, sono affrescate specularmente sulla parete d'ingresso. Nel cortile è presente, come detto, anche un secondo ciclo di affreschi, commissionato da Don Lorenzo de' Medici, figlio di Cristina di Lorena e Ferdinando I, e realizzato tra il 1637 e il 1646 da Baldassarre Franceschini detto Il Volterrano. Questi affreschi sono considerati il capolavoro dell'artista, nonché una delle opere più significative del 600 fiorentino. Si trovano sulle pareti est ed ovest, quindi laterali, del cortile. Pareti alle quali sono anteposti rispettivamente due loggiati con cinque arcate ciascuno. Proprio sul fondo di ogni arco del loggiato, quindi nei lunettoni sotto le arcate, sono rappresentate le scene di questo secondo ciclo, una per arco, per un totale di dieci scene. Ed hanno come tema i fasti medicei, episodi significativi della casata con scopo celebrativo. Ricordiamo, tra i più importanti, l'incontro fra Papa Leone X e Francesco I di Francia, Caterina de' Medici con i figli, Clemente VII in Corona Bologna Carlo V. Da un punto di vista stilistico, queste rappresentazioni hanno in comune la realizzazione di scene complesse, con molti personaggi e colori vivaci, e la presenza di elementi bizzarri, quali mostri, festoni e ghirlande, tipici dello stile tardomanierista, del quale il volterrano è uno dei più importanti esponenti.